Eccoci qui con una new entry, Francesca, che adesso ci dirà quali sono le argomentazioni che possiamo utilizzare a nostro vantaggio durante un primo appuntamento. Vai Francesca, allora, aspetta un attimo. Ci siamo conosciuti, ok? Non so, in un pub una sera, io e te. Cioè, adesso ti ho invitata per un primo appuntamento e io devo parlare di qualcosa. Tu che argomentazioni vorresti che io trattassi? Ma allora, intanto c'è da dire che ovviamente in un primo appuntamento una cosa che io aspetto da un ragazzo con cui esco è il fatto che mi faccia stare bene. Quindi comunque vorrei divertirmi, essere spensierata, essere serena, quindi sicuramente non vorrei che lui trattasse degli argomenti particolarmente pesanti. Poi si può parlare anche magari di qualche argomento un po' più serio, ma in un primo appuntamento quello che io non vorrei da un ragazzo è il fatto che possa essere pesante. Quindi metterlo un po' sulla questione della leggerezza, quindi si può spazzare da qualsiasi tipo di argomento. È importante che sia comunque un argomento che mi faccia stare a mio agio. Quindi sai, magari uno appunto prova a informarsi su quello che sei tu come persona, su quello che fai nella vita, insomma, le cose basilari per conoscersi, e poi appunto parlare magari di qualsiasi cosa che però non sia particolarmente pesante come argomento. Ecco, quindi no, parlare di fidanzate, ex fidanzate, difficoltà. Pensa te che io ho fatto un video dove appunto parlavo di questa cosa qua, quando lei ti parla del suo ex, di vai passare, eccetera. Ah, certo, certo. E lei, no, ma tu non capisci un cazzo, i poveretti che ti credono e ti pagano. Non ho mai. Però vabbè, era una ragazzina, tu sei una donna abbastanza cresciuta, quindi capisco che ci capiamo. No, poi nel senso, sicuramente ci sono persone persone. Per come sono fatta io, in un primo appuntamento, non vorrei ritrovarmi con un ragazzo che mi parla dei suoi problemi familiari, o di problemi con ex fidanzate, o di problemi lavorativi. Cioè, ecco, vorrei ritrovarmi in una situazione serena, positiva, esatto. Positiva. Sì. Uno degli argomenti che secondo me funziona molto è un po' il passato, il tuo passato più recente, no? Prima, quando sei entrata, tra l'altro non la conoscevo, ho conosciuto adesso, mi hai parlato un po' delle tue ultime scelte, le ultime decisioni, come stai improntando il tuo futuro, eccetera, eccetera. Sì. Quindi, dal mio punto di vista, questo è un argomento che fa molta presa. Intendi lui che mi possa parlare… E poi è reciproco. E chiedere a me, sì, sì, certo. Sicuramente, come dicevo, appunto, informarsi su quello che magari uno fa, su quello che ha fatto, sulle scelte di vita, da entrambe le parti. Assolutamente. Però, sempre comunque, a parere mio, visto in chiave positiva. Assolutamente. Quindi, non parlare… Oddio le tragedie che ho avuto nella mia vita, oh, le difficoltà, cioè… Beh, ti dirò… Quanto meno non al primo appuntamento. Le difficoltà dipende un po' come le tratti, perché se poi tu riesci a far capire che quella difficoltà ti ha dato modo di diventare una persona migliore, dal mio punto di vista fa molta presa questa cosa qua. Sì, 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 sì. Cioè, quello che intendo io è non risultare… Problematico, complessato. Sì, esatto. Cioè, un po' pesante, un po' magari, sai, piangi un po' addosso, un po' questo. Cioè, comunque, usare sì le difficoltà, come dici tu, dal punto di vista che, appunto, potrebbero farti emergere come persona forte, perché comunque, all'occhio di una ragazza, l'uomo deve anche essere… deve anche apparire una persona forte. Assolutamente. Quindi… Per guidarti. Sì, sì. Per aiutarti un po', nel senso, anche dal punto di vista morale. E quindi, sai, cioè, se già esci con una persona al primo appuntamento, le vedi che è un po' così, un po' si butta giù, o comunque un po'… Poi io sono una che non adora particolarmente le persone che fanno le vittime. Quindi, se io già vedo questo in un primo appuntamento in un ragazzo, mi blocco un po'. Prende distanze. Sì, prende un po' le distanze. Cioè, comunque, l'uomo, secondo me, deve far vedere la sua parte… Moschile. Sì, poi, per l'amore del cielo, eh, cioè, anche gli uomini hanno le loro debolezze e è bello che poi facciano emergere anche le loro debolezze, ma non in un primo appuntamento. E non sempre. E non sempre, certo. Io c'avevo… c'era una ragazza che aveva un ragazzo che le inseguiva sempre e questo qua continuava a mandarle foto dove si vedeva che piangeva. Dai una, dai due, dai tre, dai quattro, dai cinque. Questa qua ha detto, mica, ma questo qua è un bambino. Piange e basta, certo. No, non sempre. Poi ci sono i momenti, cioè, anzi, è anche bello vedere a volte questo lato nell'uomo, secondo me, però bisogna un po'... Sporadicamente. Bisogna trovare il giusto equilibrio. E da questo argomento qua, sempre secondo me, si potrebbe poi arrivare anche persino all'infanzia, che non è troppo invadente, ma è qualcosa che crea connessione. Tu come vedi questa cosa qua? Sempre chiaramente mettendo da parte i problemi che ognuno può aver avuto durante l'adolescenza, l'infanzia, gli anni… Cioè, parlare comunque di cose belle. E entri in un discorso molto ampio, secondo me, con una persona. Diciamo che magari, sai, se comunque la prima parte dell'appuntamento sta andando bene e hai creato un certo tipo di feeling positivo, magari puoi addentrarti anche un po' in questo argomento, perché comunque, vuoi o non vuoi, secondo me è un po' per tutti, è un po' un argomento intimo e privato, no? Assolutamente. Quindi non lo affronti con chiunque. Esatto, è proprio questo il motivo. Per cui dico sì, lo puoi affrontare se vedi che l'appuntamento si sta volgendo nel meglio, diciamo. Quindi allora sì, in quel caso sì. E anche io magari mi aprirei. Cioè, oltre a comunque vedere l'altra persona che potrebbe aprirsi con me, magari anch'io riuscirei ad aprirmi. Però poi dipende come è stato impostato l'inizio dell'appuntamento, ecco, diciamo. Ok, quindi abbiamo parlato passato, infanzia. Sì. Adesso anche il futuro, per dirti prima, abbiamo parlato con le tue scelte. Anche il futuro è importante, secondo me, nel senso che parlare del futuro ti fa capire se hai davanti una persona ambiziosa, che è una caratteristica che io ricerco in un uomo, o se è una persona magari un po' più piatta, stabile, che non usa. Esatto. Quindi anche parlare del futuro ti può aiutare a capire chi hai davanti. Sì. Assolutamente. Alcuni argomenti invece che bocceresti, oltre al fatto di dimostrarsi come vittime, negatività e quant'altro. Secondo me potrebbero essere... Appunto fidanzato, ex fidanzato. Esatto, ex fidanzate. Poi io boccerei anche argomenti sessuali. Assolutamente sì. Perché se tu dai modo di parlare di queste cose, cioè... Ma no, in un primo appuntamento sicuramente no. In un primo appuntamento sicuramente no. Crea disagio. Fai arrivare alla ragazza il fatto che tu abbia quasi un unico ed esclusivo obiettivo. Quindi io non azzarderei. Poi dipende che ragazza hai davanti, però in linea di massima non pensi sia cosa che la vita. E ad esempio parlare di aspettative che hai tu nei confronti del tuo prossimo partner. Quindi non parlare del tuo ex, ma... No, io non lo farei. Tu non lo faresti? No, perché... Ti dà modo di essere, tra virgolette, scalzato se tu non matchi con quella descrizione? No, perché mi sembrerebbe di mettere già addosso ad una persona una responsabilità. Cioè io mi sto facendo conoscere da questa persona e sto cercando di capire questa persona. E vorrei che questa persona fosse totalmente libera di essere se stessa, senza avere l'influenza di quello che io magari gli posso dire. Non so se... Ok. Cioè se io... Sì, perché se tu gli dici io vorrei X, l'altra persona cerca di conformarsi. Esatto. Non dico in dovere, però magari tende a seguire quella strada lì indicata da me. Mentre io non vorrei questo, cioè vorrei lasciare una persona libera di essere se stessa. Famiglia? Famiglia? Come argomento dici? No, sì, come ti dicevo, dipende sempre da come poi va l'appuntamento. Non è un discorso che io personalmente farei con chiunque e non è nemmeno un discorso che vorrei che chiunque facesse con me. Perché è un argomento, magari sai, nel bene o nel male, sempre un po'... Privato. Sì, quindi anche magari sentire certe cose da una persona con cui non sei particolarmente complice, intimo, in confidenza, perché magari è il primo appuntamento... Non lo so. Viaggi ed esperienze di vita? Sì, assolutamente, certo. Cioè secondo me in un primo appuntamento devi parlare delle cose belle e piacevoli che ti identificano. Quello che ti piace fare o così? Sì. Ovvio, certo, non è che devi passare per la persona che non sei. Ovvio, quello sì. Assolutamente no. Però puntare comunque sui tuoi punti di forza, ecco. Secondo me. Ti ricordi quali argomentazioni ha toccato qualcuno che è uscito con te e che ti ha fatto un'ottima impressione? Oltre a quelle che abbiamo descritto poc'anzi? Ma sempre, ma a me personalmente persone con cui sono uscita che mi hanno fatto una buona impressione sono state persone che appunto mi parlavano o di viaggi, quindi del loro trascorso dal punto di vista del viaggio, del girare il mondo, dell'essere magari avventurieri, da questo punto di vista o dal punto di vista professionale. Quindi magari persone appunto intraprendenti che puntano sulla carriera, che sono incentrate ad un obiettivo, che sono convinte di poter raggiungere quell'obiettivo sia volto al futuro che nel passato. Quindi anche persone con cui, che magari in passato ci hanno avuto lavorativamente parlando delle valide esperienze. Quindi queste due argomentazioni sono due argomentazioni che su di me fanno abbastanza presa. E qualche altro ragazzo che in passato ha fatto una pessima figura, che ha fatto una pessima impressione perché magari ha toccato determinati punti? Quindi adesso abbiamo parlato del lato positivo, ok? Parliamo su quello negativo. Qualcuno che sicuramente hai bocciato e gli hai detto... Sto cercando di pensarci. Questo proprio non lo voglio vedere una seconda volta. Ma allora, sicuramente il mieloso all'inverosimile, nel senso che... Stolcinato. Sì, ma c'è quasi da ansia, no? Non so come dire. Quello che... Cioè, il primo appuntamento si comporta quasi come se fossi la sua fidanzata da una vita. Quindi, c'è proprio quasi dirti... Tipo a me per esempio capita di uscire la sera anche con le amiche e girare i locali. Uno che ha il primo appuntamento magari quasi tende a dirmi... Cioè, a farmi presente che lui non accetterebbe una cosa del genere. Non so se rendo l'idea, cioè quasi come... Spiegati meglio. Nel senso, il primo appuntamento, tu parli di quello che fai, io parlo di quello che faccio. E mi è capitata questa persona che risultasse invadente quasi al punto... Come se si sentisse il mio finanzato. A tal punto da permettersi magari di storcere il naso quando magari... Quando magari io dicevo che uscivo con le mie amiche, andavo a ballare, queste cose qua. Quindi è rispettoso invadente in un certo senso. Sì, secondo me sì. E rispettoso. E rispettoso anche. Cioè, nel senso, ci stiamo conoscendo. Perché poi in quel determinato caso c'è stata una frase che lui... Cioè, io l'ho sentito invadente. Ma lui cercava di non farmelo vedere. Cioè, c'è stata una frase che ha detto tipo... No, vabbè, però tranquilla. Io non ti vieterei mai di fare queste cose. Cioè, non ti preoccupare. Cioè, è come se per lui fosse già tutto a posto. Già che hai fatto. Eh, capito. Nel senso, un attimo. Quindi, essere un po' troppo invadenti, un po' troppo... Cioè, a volte gli uomini secondo me fanno anche un po' questa cosa. Nel senso che pensano che... Poi io non so se possa essere una strategia o meno. Cercano di assecondarti. Sì, cioè, pensano che a volte fare quelli super presi o super mega innamorati da subito possano farti cadere ai loro piedi. Ma non è così. Secondo me, poi, sono magari ragazze che... Cadono. Va bene, dai. Diciamo che con le argomentazioni del primo appuntamento per oggi abbiamo dato. Ringraziamo Francesca. Grazie a voi. E sottoscritto per l'intervista. Ciao, ciao. Ciao.